Si chiama Tencent e vale più di Facebook, pensate. Infatti è uno dei primi 5 grossi al mondo per fatturato e è conosciuta molto, e ripeto, molto in CIN dove viene molto utilizzata. Pensate che l'app di messaggistica WeChat nel mercato asiatico è la più usata di WhatsApp e addirittura funziona molto meglio rispetto a lei stessa. WeChat è il prodotto di punta della Tencent che ha dotato, che ha reso in possesso l'app di messaggistica istantanea delle funzioni di pagamenti dell'anno scorso anticipando in maniera netta i rivali proprio di WhatsApp WeChat Pay però funziona soltanto in territorio cinese dove ha una imponente, quindi cospicua quantità di persone che sfruttano il mezzo in questione. Ti ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, dunque per ogni eventuale e futuro aggiornamento vai a vedere su Google, nel web, per trovare altre informazioni su Tencent che è un colosso cinese che ha superato in valore un Facebook, il colosso di Mark Zuckerberg. Grazie a voi, termina qua, un saluto al prossimo video.